Gastronomica fierezza Con la sua gastronomica fierezza lo proclamò perfino Pulcinella Scappare è una viltà ma è la salvezza Commento Poi passò il tempo che i duci e i soldati traditori finivano impiccati Commento Grazie alla legge e il militarismo che asservisce la società al potere militare è approvato sempre meno